buongiorno a tutti martedì 18 settembre ore 8 e 40 sono all'ingresso della villetta comunale via napoli via roma devo certificare lo stato di questa villetta questo è lo stato dell'arte come potete vedere la villetta è pulita come potete vedere la villetta questo per dire che le foto che vengono appositamente messe ad arte su internet sono false e servono solo a denigrare l'amministrazione guardate lo stato della villetta mentre cammino faccio vedere le condizioni alla villetta se è pulito e sporca quindi vorrei invitare gli amici dell'opposizione a fare un po le persone serie e non postare fotografie vecchie grazie buona giornata